la porta la porta 1 chiudi la chiudi la non potete andare andiamo andiamo ora 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 aspetta aspetta vedi 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 io sono in chakra vedi 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 andate sul muro del palazzo così non vi prendono non ho fatto un muro magari vedi è stato qui eh insieme però non so che palazzo è quello lì questo è un po' finito io questo qua oh vi abbiamo compreso ah non c'è un cazzo 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 sono sopra, sono sopra eh? si si, non rischiamo non salite, non salite ecco lì aiuto, aiuto occhio eh, giù 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 dove siete? dove siete? qua siamo noi, a terra uno a terra, giù giù dobbiamo andare, c'è roba gente perdono, andiamo a scendere, andiamo a scendere eeeh 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 peccato, è giù, bastarda chi è cazzo? ragio, perché sei sotto? no, qua sono qua sono io va andare su ma abbiamo giunti sopra? vediamo se se ne vanno ma non c'è nessuna, soltamente qua venite qua vabbè dov'è? metcio cassa vabbè sulle scale giocchiamocela qua perfetto ok, paranzoni le altre parti eeeh avete i mini a mettere in questo carrello è importantissimo avere e mettere le mini in questo carrello vabbè ci abbiamo sposto dobbiamo andare qua vabbè 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 ci sia vabbè cassa ho di puttata ti sono i mini che potreste prendere qua mini ecco io metto due uno li metto su piano sempre qua guardi scala ancora una qua li metto qua vabbè e due ok Questo mettilo qua, mettilo qua, mettilo qua, mettilo qua questo Ok, va bene Mettilo qua, qua così Bravo Ok Antonio non ci sono più palazzi alti, o c'è? Stazione di acquisto nemica in campo Ah, c'è questo palazzo qua, occhio Quello è pericoloso Mi devi andare in quel palazzo Guarda qua, guarda, guarda Guarda qua, guarda qua Guarda qua sotto, qua sotto a quanto? Infatti, sento di sopra Apponta, apponta Apponta posizione, sento da Minch'era migliori, sai Ecco, il po' No, c'è chi no qui di fronte, dove eravamo noi Oh, ho visto, ho visto Occhio, eh Ma fagli nell'alterale, eh Sopra da noi c'è gente No, ma nel palazzo di fronte a quello alto, questo qua, che pingo sì, qua sopra Mi occhio lì Ah, ok, questo qua con la scala qua Sì, ecco, lo scemo È un 1 però, eh È un 1 Però mi resta attenti Vai dietro Fly, ok fly Lo sai il pallone, da farli fuori Vado qui Vola Le mine le avete messo giù, ragazzi, le mine Sbagliato, da, si stupate, guado io, guado io C'è questa piazza, perdono Ok, io un'altra cassa di unico Raga, questi stanno crossando da qua Marco, la nuova zona sicura Sì No, basta Devevo andarla sopra, porca puttana Facciamoci questi che devono riuscire a andare a terra Eh, si muove troppo veloce, andrà Marco, siamo qua in due Attento, Ale Se non siamo assoluti, cosa non lo dobbiamo fare? Dovevo per farlo a costare L'ho staccato, l'ho staccato Ancora 25 Ancora 25 Ancora 25 Ancora giuda Tieni a casa piazza, ragà, piazza Dove sono finiti quelli? Testa è qua, sovra piazza Sì, non possiamo venire da te, la stessa Sì, non possiamo venire da te, la stessa Sì, sì, oggi Sono passando qua Ah, no, pure il cerchino Ma gioca di un da sopra sotto, attenti, eh C'è quello stronzo è, ragà, questo è da sopra Andrè, prova, devi stare usando di zitto Questa è qua Sì, sì, è lì La casissima Ale, ale Vieni, ti regolazzi Ragazzi, sei pronti nel di là? Arriva, arriva Spera Venti qua, venti su Venti subito, eh Venti qua, venti com'è? Vai, vado Venti, eh Non vede il suo tettino lì Non vede la mina giù, non vede la mina giù Dove erano no? Guarda, quello lì è qui Andiamo, andiamo, venti lì di te Andiamo, andiamo Giù, giù, giù Non vede te Ci vanno Siamo, andiamo a sboccare Pian piano, poco, poco, poco Sono dentro, faccio Sono dentro Io sono sopra Buttala tu Partiamo a sboccare Pian piano, una volta, eh Qua si butta E non so dove siamo Io sono dentro, ragà No, poco E io sono sopra Perché sei sopra? Io non ne ho più Io non ne ho più Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Damai, 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 audio Faccio sopra che si lancia questo qua, eh Audio, audio Sono già lanciato Bravo Sono già lanciato Odito, di te, di te Chi è? Adesso, adesso, adesso Adesso, adesso, adesso a me è sotto, sotto qua, sotto qua è sotto anche qui c'è la maschera a me raga a terra uno raga, uno, e via avanti, avanti è qua dietro fermia, calma, calma facciamo minchiate ve lo pingo, ve lo pingo non lo so mi ripingato, eh è qui dentro vabbè è morto è morto è riuscito ciò, ciò, ciò mi ero già piazzato sì mi ero piazzato di conto ho battuto tutti oggi vediamo se Davide deve parlare quanto ne fanno? ha fatto chi? 3,2 tutti quanti molto buona buona ho 2 kill come dai bravo io ho 1,2 io non l'ho visto no tu 3 marco 3-4 ha le 2 però a me non mi sono fatto 0 più la prima volta che batto la squadra come kill e come puntagini che a me è successo voglio vedere che non vedo grande maverick assist forse sono ho significantly avviato altrimenti